Ci spostiamo nuovamente a Ulx, sulle montagne torinesi, dove ha avuto grande risonanza Boster, Bosco e Territorio, al cui interno si è svolto anche un convegno molto partecipato, organizzato da Federforeste. All'interno della fiera Boster Nord Ovest 2021, acronimo di Bosco e Territorio, che si è svolta a Ulx, in alta Val Susa, dedicata all'integrazione del mondo boschivo a quello urbano e antropizzato, si è svolto un importante convegno promosso dalla collaborazione di Federforeste e di Coldiretti Torino. Due mondi apparentemente lontani e in conflitto, ma che in realtà non lo sono, al contrario, lavorano per un approccio integrato alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e all'agricoltura di montagna. Una sinergia che ha come obiettivo principale la manutenzione del territorio, per preservarlo in particolar modo dalle pericoli incendi e dal dissesto idrogeologico. Siamo qua insieme con Coldiretti, perché stiamo cercando di riprendere quello che è un filo importante di spiegazione, di illustrazione, di condivisione con quello che è il cittadino, rispetto ai temi del bosco. Temi del bosco che debbono essere affrontati necessariamente in un modo diverso, con la consapevolezza che purtroppo manca e che quindi va, non so se costruita o ricostruita, perché forse una volta c'era, rispetto al bosco e alle sue funzioni. Un bosco che ha la funzione certamente di assolvere una serie di questioni importantissime per la vita del pianeta, ma bosco che deve continuamente essere anche manutenuto e io dico, sapendo benissimo di assumermi una responsabilità dicendo questo, anche tagliato, anche utilizzato. Se vogliamo che il bosco assolva le sue funzioni, deve anche essere economicamente sfruttato. Quando una pianta è datata, quando una pianta ha compiuto il suo ciclo, bisogna avere il coraggio di toglierla di mezzo, utilizzarla certamente al meglio, ma fare spazio ad altre piante che possano crescere. E questo è un concetto semplice che però manca, obiettivamente, dal punto di vista della consapevolezza generale. E' anche il senso del convivio di oggi, e anche il senso di questa alleanza tra il mondo delle foreste e il mondo dell'agricoltura, quindi Federforeste e Coldiretti, proprio perché sicuramente ci sono delle, come posso dire, dei conflitti, ecco, tra i due mondi da sempre, atavici, ma che vanno assolutamente superati e vanno invece raggiunti quelli che sono dei compromessi assolutamente possibili nell'interesse di entrambi, ma io dico nell'interesse del mondo forestale, del mondo agricolo, ma nell'interesse di quello che è il cittadino, molto più largamente inteso. Abbiamo delle problematiche che sono, molto semplicemente, io dico, il fatto di andare a ripristinare in Italia quella che è la filiera di trasformazione del legno. Noi l'abbiamo persa sostanzialmente, ce ne siamo accorti, ad esempio, con Vaia, e quando noi pensiamo che il miglior legname abbattuto da quella tempesta se n'è andato all'estero, un valore aggiunto che noi dovevamo assolutamente in qualche maniera bancare come sistema paese, quindi va ripristinato quel tipo di filiera, non dimenticandoci mai che noi siamo un importatore importante di manufatto in legno e siamo anche un grande esportatore di manufatto in legno, quindi utilizzare meglio quelle che sono assolutamente le nostre foreste partendo dalla prima lavorazione. La nuova legge sostanzialmente c'è, che va già un po' in quella direzione, che è il testo unico forestale al quale noi abbiamo dato un grande, credo, contributo nell'andare a essere, fra virgolette, scritto e esplicitato. Serve comunque ancora quella continua, come posso dire, informazione che manca, ecco, e che tante volte addirittura viene data, non certamente da noi, nella maniera un pochino ambigua e distorta. L'agricoltura di montagna convive con il progetto forestale da sempre. Oggi ha assoluta necessità di farsi conoscere di più all'opinione pubblica, perché ci confrontiamo con un'opinione pubblica che è sempre più distante dalle esigenze delle nostre aziende, degli agricoltori e dei boscaioli, che vengono visti come distruttori del territorio. Noi dobbiamo recuperare importanti passi per far sì che tutti capiscano che senza una gestione corretta del bosco, ed è questa l'impostazione che dà Federforeste e col diretta alla problematica, non ci sarà una natura corretta, gestita bene e funzionale. Senza interventi nei boschi si sviluppano incendi che distruggono tutto il nostro patrimonio e vengono a costare alla collettività tantissimi fondi. Noi dobbiamo cercare di evitare questo, dobbiamo far capire alla gente che senza una gestione corretta delle foreste facciamo un danno alla nostra natura. Bisogna proprio invertire completamente il senso che oggi domina nei confronti del bosco. Il bosco è una ricchezza che però deve essere utilizzata nel momento opportuno. Noi abbiamo tantissimi boschi comunali che non vengono più venduti perché le amministrazioni comunali non vogliono avere dei contrasti con gli ambientalisti. Il risultato finale sono incendi spaventosi che distruggono tutto questo bosco. Io come Coldiretti pensavo di proporre, di rendere responsabili economicamente per gli interventi antincendio le pubbliche amministrazioni o i privati proprietari di grandi superfici interessati da bosco qualora questi boschi vengano dichiarati maturi dal corpo forestale dello Stato ai carabinieri e di conseguenza non è più il ragionamento che stanno facendo oggi le pubbliche amministrazioni dicendo ne mangia ne beu castagalì. Quindi devono essere più responsabilizzati. Federforeste è la casa degli operatori forestali ai vari livelli. Tra queste la forma giuridica che noi privilegiamo rispetto a tutte quelle che possono essere aggregazioni di taglio forestale e il consorzio forestale. Riteniamo che nella natura stessa giuridica del consorzio forestale ci siano la soluzione a quelli che possono essere tanti problemi del mondo forestale. Abbiamo bisogno di aggregare le proprietà fondiarie per far sì che venga fatta una gestione sostenibile della foresta e aumenti questa percentuale su tutto il territorio nazionale di gestione forestale in foresta. Purtroppo solo il 13% di tutta la superficie nazionale è gestita con piani di assestamento e con gli strumenti che la gestione prevede. Dobbiamo aumentare questa percentuale e dobbiamo arrivare ad una certificazione forestale che elevi in qualche modo la produzione, il valore e la produzione nazionale. I numeri che collocano l'Italia come il più grande importatore di legna da ardere su tutto il territorio europeo e mondiale, questo è un dato che fa puni con i 12 milioni di ettari che ricoprono il nostro territorio nazionale. C'è qualcosa che non funziona, riteniamo che il consorzio forestale con la sua capacità di aggregare possa dare una risposta positiva a questa problematica. Questo è un processo che va analizzato nel tempo. Purtroppo la disattenzione del potere pubblico rivolta al mondo forestale ha fatto sì che quelli che erano i principi cardini di una filiera forestale locale gradatamente sia andato a spegnersi o comunque a ridursi in maniera sostanziale. Purtroppo quelle che noi chiamiamo le segherie di valle lentamente sono sparite ed è venuta meno una porzione importante di quella che è la filiera. Quanto viene proposto anche dalle varie disposizioni da partire dal recovery a scendere danno una risposta potenziale a questo. Occorre però passare dalle parole ai fatti. Federforeste su questo è impegnata fortemente perché la creazione di una filiera forestale locale tante filiere forestali e locali fa sì che l'uomo rimanga su questi territori in modo tale da costituire un presidio contro quelle che possono essere i problemi, le piaghe del domani, il discesso idrogeologico, il primo fra tutti. Coldiretti è sempre stata vicina al mondo forestale. La foresta è un territorio di coltivazione dove ci sono gli agricoltori, dove c'è coltivazione c'è Coldiretti. Coldiretti con Federforeste vuole puntare a far tornare un bosco produttivo che dia un beneficio ai territori per cui la nostra vicinanza sarà sempre più rafforzata anche in provincia di Torino. Un bosco coltivato è un bosco che mette in sicurezza il territorio e questa è una priorità che Federforeste ha e voglia di far ritornare, come ho già detto prima, un bosco produttivo che vada a tutelare anche quelle che sono i disesti idrogeologici che possono capitare da una non tenuta corretta del territorio.